Ciao sono Golkenji, oggi siamo nuovamente qui, nuovamente su un gioco horror che da un po' che non ne faccio sul mio canale Dungeon Nightmares 2, non ho provato il primo, che dovrebbe esistere, non credo che quel 2 sia messo lì così tanto per far numero Io farei New Games, non c'è neanche un menu per l'audio Ho fatto già partire il gioco solo per vedere se il volume andasse bene, anche se per quello che ho visto il volume non sono riuscito a capirlo Adesso vedrete, se se va bene E andiamo, quindi se è troppo alto mi dispiace Ok Sveglia, sveglia, sveglia Sveglia, sveglia 15 febbraio, 5.49pm Dove sono? And what I'm doing? Come ho fatto ad arrivare qui? Intanto vediamo che Non so che cosa Oh wow Qui sono col tasto sinistro Attenzione Ok Ok Vediamo Tutto Quello che Vediamo Vediamo Ci facciamo un po' Un po' è lucido Ok Allora Il cesso Possiamo lavarci le mani Ok Ok Perché deve essere così scuro? Oh It's locked No Qualcuno ha lasciato qui il Qui l'orso Devo girarmi Via Ok Ok Andiamo Non mi far paura Non posso entrare qui Non posso qui Ok 300 Ok I need the key per la 303 Ok Succederà qualcosa qui Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Questa è la 302 Anche questa Se ve la key Questa anche la 301 Se ve la key Oh Possiamo entrare Oh Oh Piano 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 Ok Beh almeno non abbiamo incontrato Gente strana Andiamo un po' Tut Sporca Oh C per M for map Ok Ah non posso usarla Ah è l'accendino Ok Con C è l'accendino Cerca l'artefatto E esci Andiamo un po' Oh Ok Quindi non ci possiamo muovere Comunque Ci è vendita però Ah ok Devo accendere le candele Perfetto Oddio Ok Spero si veda abbastanza bene Io sto vedendo poco Io sto vedendo poco però Che cazzo è Mappa Eh non si vede moltissimo Però va bene Wow 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 Ok Devo accendere le candele Ehm Cosa mi dice Prima di andare avanti Ok Ok Paura Mappa Ok Devo trovare l'artefatto Ok E' uno scheletro E' solo Allora Oliaskeleton Eh giustamente E' solo uno scheletro Ok Ok Ah ok Non è che le faccio andare le candele forse No candles Candles sono le candele O sono Candy Sono le caramelle Candles Ok Oh forse qui No perché Non è Tu Non devi toccare questo Por Cavacca Ok Lo rifa Il sangue è recente Non ho visto niente dentro Chi ha lasciato questo qua? Va bene Sembra una Costanza chiusa Un po' Ok 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 Bene Porco due Porco due Mi son trattenuto Dio Oddio 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 e andiamo all'ascensore oddio mio andiamo oddio e chi se l'aspettava quello scheletro dannato l'artefatto dove potrebbe essere l'artefatto la sua mappa non mi rimetta perché non possiamo usarla mentre ho perso almeno 20 anni di vita allora find the artifact and exit mappa non so se cambia ogni volta vediamo che c'è di qua al prossimo spavento oh paura 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 due palle ok qualcuno ha lasciato i suoi vestiti qui sembra un magazzino ho paura a guardare oh e vai 313 ragazzi come ci arrivo però ora dovrei riandare su ragazzi oddio è fin the exit e va bene però io come ci arrivo adesso la posso correre ok corri 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 lo so che non ci vedrete niente ma mi dispiace eh uscita no 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 ciao ciao via via sì 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 bello bello ciao 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 Sì 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 Oh cicilo cicilo No 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 Dov'è l'uscita? Sono tornato indietro Ragazzi 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 Fammi tornare Ti prego fammi tornare in su Ecco Ecco Guardalo guardalo Oh No Sono di nuovo qui Vediamo cosa ce n'è baule Vediamo cosa ce n'è baule Di nuovo L'uscita dov'è? Se c'è da dentro No 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 Ecco di nuovo la La sveglia 6.01pm Ah ok Non avevo notato che Io prima ho letto la data Non ho pensato che fosse oggi Penso che Che cambi Basta Che cambi il tempo in base al Come si gioca Perché è l'ora giusta Va bene Quindi Se sapete Se volete darmi dei consigli Se avete finito il gioco E sapete come finirlo Ditemelo così Lo faccio Una volta soltanto E so come fare Se no Spero di avervi fatto divertire Perché io sono morto Quindi io direi che Anche per questa puntata È tutto Come sempre commentate Iscrivetevi Un bel vi piace E al prossimo episodio Ciao Ciao